La città ha reagito bene, ha risposto bene al di là di ogni ottimistica aspettativa che avevamo, peraltro, che avevamo visto già la mobilitazione dal basso che c'era stata. Beh, insomma, cosa dire? Io sono contentissimo intanto perché il messaggio è stato recepito, che era quello di spiegare Antonello come punto forte dell'identità di questa città. C'è Antonello da Messina, conosciuto in tutto il mondo, diciamo, a parte gli esperti, abbiamo persone qui a Messina che hanno studiato Antonello, dalla professoressa Pugliatti all'architetto Principato, ce l'ho, ce ne sono tanti, studiosi di grande valore, però rimane in un circuito chiuso. Mentre l'idea è stata quella di dire che tutti dovete partecipare a celebrare Antonello e la città ha risposto bene, ha capito anche il senso della notte tematica, perché le notte della cultura, che lei lo sa dove viene, no? Dalle notti bianche che fecero a Roma vent'anni fa la prima volta, poi in tutta Italia si è diffusa questa cosa, facciamo la notte della cultura, benissimo. Ma cosa lasciava? Io credo che questa cosa, tant'è vero che poi alcune iniziative su Antonello continueranno, come la mostra resterà qui, la parla cultura, come altre iniziative culturali che riguardano Antonello, continuano. La prossima, abbiamo già stabilito la data, la dedichiamo invece alle comunità straniere residenti a Messina, insomma, anche lì sperando di, come dire, di far sì che queste notti lasciano un segno. Qualche passaggio a vuoto legato soltanto agli orari d'apertura del museo e dell'acquario? Allora, il museo, abbiamo insistito, ma la dottoressa Di Giacomo, la direttrice del museo, purtroppo, dice, ha difficoltà a pagare gli straordinari. E ha difficoltà, aveva paura perché ci sono i lavori in corso, perché lo stanno ristrutturando. Certo, speriamo che questi lavori finiscano. Infatti ho chiesto ufficialmente che alla prossima notte della cultura ci sia il museo aperto, un museo con quadri di questo livello, di questo valore, di questo prestigio. Deve restare aperto la notte, almeno fino alle 10, 10 e mezza. Per l'acquario c'è stato un problema di comunicazione, nel senso che è saltato qualcosa. Dovete tenere presente che moltissime iniziative che sono state prese da vari soggetti non sono entrate nel programma o perché non erano coerenti con il tema di Antonello o perché sono arrivate all'ultimo momento quando il programma era già stampato. Quindi la prossima volta, dall'esperienza, diciamo questo. Diamo una deadline, cioè un limite nella presentazione di proposte, perché sennò andiamo troppo a ridosso dell'iniziativa con la pubblicazione del programma. e questo può creare un problema. C'è già una data della prossima notte? 12 aprile c'è la prossima notte di Messina, della cultura.